Il comunale di Sasseri si affrontano nel big match della quattordicesima giornata di Serie A l'imbattuta capolista Torres ed il Verona. Giocatrici contate per Mr. Longega che deve rinunciare anche all'influenzata Carolina Pini. La centrocampista fiorentina va ad aggiungersi alle infortunate Ledri, Belfanti, Mazon e Battocchio. Le campionesse d'Italia invece sono praticamente in formazione tipo, con l'ex Panico al centro dell'attacco. Le rosso-blu tuttavia perdono subito per infortunio Stracchi, sostituita da Maglia. La prima conclusione per la Torres giunge al decimo minuto quando Oxstrom para senza difficoltà il tentativo di Sandy Jannella. Sarde pericolosa e poco dopo su calcio di punizione dalla lunghissima distanza, battuto da Manieri con palla al lato di un soffio e con il tentativo di Maglia che chiama Oxstrom alla deviazione in angolo. Il Verona ha un buon momento poco prima della mezz'ora, ma le giallo-blu non riescono a concretizzare un paio di ripartenze. Al trentacinquesimo pericolosa Patrizia Panico con la sua conclusione di prima intenzione deviata in calcio d'angolo. Due minuti più tardi occasionissima per la numero nove della Torres che sfrutta un errore in fase di disimpegno della difesa scaligera e coglie la traversa con una conclusione a scendere. Il Verona risponde con l'azione in velocità di Gabbiadini che se ne va sulla destra e mette in area per Girelli che coglie la base del palo. In chiusura di tempo un'altra ripartenza di Gabbiadini trova Girelli lontana dall'area di rigore. La numero dieci scaligera prova ugualmente la conclusione che termina alta. Prima frazione di gioco che si chiude a reti inviolate. All'ottavo della ripresa le scaligere potrebbero approfittare di una Torres sbilanciata, ma Gabbiadini in piena area non conclude, mette la palla in mezzo dove Carissimi giunge in ritardo al tapin. Al diciannovesimo l'assist di Federica Di Criscio viene intercettato con una mano da Elisabetta Tona sul limite dell'area. Antagonista di Cagliari non ha dubbi e assegna il calcio di rigore per le giallo-blu. Dagli undici metri Cristiana Girelli si fa deviare in angolo la conclusione da una strepitosa Talman. La Torres fatica a trovare spazi nell'ermetica difesa scaligera e al trentasettesimo, dopo la conclusione di Jannella parata da Ostrom, l'attaccante Sarda entra in contatto con Toselli. Il direttore di Cara decreta generosamente il calcio di rigore per le Sarde, ammonendo erroneamente Gelmetti. Manieri dagli undici metri trasforma di potenza e porta in vantaggio la Torres. La formazione Sarda incamera così la sua quattordicesima vittoria in altrettante gare di campionato, sicuramente la più sofferta. Per il Verona tanti complimenti ma zero punti conquistati in Sardegna. Le giallo-blu torneranno in campo il 5 gennaio con il Pordenone nell'ultima giornata di andata.